Un cordiale saluto, una buona domenica e benvenuti al TG6 la settimana. Ripercorriamo insieme i principali fatti che sono accaduti in regione Abruzzo partendo da lunedì 12 agosto. La provincia di Chieti nel rendere pubblico il cronoprogramma delle attività in vista dell'avvio del prossimo anno scolastico ha annunciato come entro fine mese sarà rilasciata la segnalazione certificata di agibilità relativa alla nuova sede del Masci. Una notizia che arriva dopo le proteste da parte di studenti e docenti iniziate inoltre. Le attività di trasloco della Savoia che sarà oggetto di lavori di adeguamento sismico. L'obiettivo è quello di garantire la regolare ripresa delle attività scolastiche il 16 settembre. Proseguono così a pieno ritmo le attività necessarie al trasferimento del liceo Masci di Chieti nel nuovo edificio scolastico realizzato dal provveditorato alle opere pubbliche nella ex caserma Verardi. I lavori partiti il 7 di agosto dovrebbero terminare questa settimana. Poi si potrà procedere al trasloco degli archivi e degli arredi del liceo Masci. Crono programma alla mano la provincia di Chieti prova a dare risposte concrete anche alle proteste che avevano animato studenti, docenti, personale ATA e genitori riuniti nella mattinata del 29 luglio per esprimere la loro delusione e la preoccupazione per il futuro del liceo. Dunque sembra così sbloccarsi una situazione pesante che si protraeva da circa 8 anni. E' importante questo passaggio. Al 31 di agosto avremo, perlomeno così ci è stato assicurato dall'Agenzia del Demanio, la scaggi e successivamente in primi giorni di settembre potremo provvedere a ricollocare anche le persone, quindi penso agli amministrativi. E successivamente tutti gli studenti potranno ricominciare il loro anno scolastico. Parallelamente l'ente sta lavorando al trasferimento di circa 800 studenti del di Savoia oggetto di un sostanzioso intervento di adeguamento sismico attraverso la demolizione e ricostruzione del corpo centrale con fondi PNRR pari a 11,5 milioni di euro. Gli arredi e il mobilio attualmente in uso all'ITIS di Savoia verranno trasferiti nelle strutture precedentemente occupate dal liceo scientifico Masci, ovvero il seminario parte del Desterlich e la sede storica del Masci. Questo è il cronoprogramma che la provincia ha stabilito, rispettando gli impegni assunti ci tengo a evidenziare che le responsabilità sono già tutte ben precise perché ci sono tavoli prefettizi che hanno dimostrato e verbalizzato tutto il percorso di questo lunghissimo e forse anche un po' farraginoso ITER per la consegna di questo. Siamo a martedì, il caldo e soprattutto la siccità si fanno sentire ormai dall'inizio dell'estate anche a Pescara. Molti cittadini stanno sperimentando problemi legati alla mancanza d'acqua. Per attuire gli effetti della crisi idrica il Comune ha installato un serbatoio d'acqua da 2000 litri in via di sotto nella zona Colli dove i cittadini rimasti a secco potranno rifornirsi liberamente. Un serbatoio d'acqua con una capacità di 2000 litri a disposizione dei cittadini alle prese con problemi di carenza idrica. L'amministrazione comunale di Pescara corre ai ripari alla luce dell'emergenza siccità e delle tante segnalazioni di rubinetti a secco pervenute nelle ultime settimane da varie zone della città. Il serbatoio su iniziativa del sindaco Carlo Masci, della sua vice Maria Rita Carota e degli assessori Massimiliano Pignoli e Valeria Toppetti è stato installato dall'ACA in via di sotto nel piazzale della scuola Virgilio. In questi giorni abbiamo ricevuto molte segnalazioni per la carenza di acqua da parte di famiglie con bambini, anziani, un po' da tutta la città, in particolare dalla zona dei colli. E allora ci siamo attivati insieme al sindaco, all'assessore Maria Rita Carota, all'assessore Pignoli per le nostre rispettive competenze e abbiamo pensato di trovare una soluzione seppur emergenziale che possa sopperire questo grande disagio. Abbiamo quindi chiesto all'ACA collaborazione e abbiamo fatto installare questo serbatoio da 2000 litri che è a disposizione dei cittadini. Nella giornata di oggi, dalle 8 di questa mattina fino alle 19 e da domani 14 fino al 18 tutti i pomeriggi dalle 15 alle 19 e sarà lì ad intervenire la protezione civile che presidierà le operazioni di prelevamento di acqua da parte dei cittadini, poiché la scuola sarà chiusa. Dalla prossima settimana, quindi dal 19 fino al 25, dalle 8 di mattina fino alle 19, dalle 8 alle 15 la scuola sarà aperta e dalle 15 alle 19 sempre la protezione civile si occuperà di assistere coloro che verranno. Ecco, da un punto di vista poi pratico, quali sono un po' le procedure nel senso che i cittadini potranno venire qui con le loro taniche, ci sono dei limiti al prelievo di acqua? Allora, noi ovviamente ci affidiamo al buon senso dei cittadini, è un servizio, ripeto, emergenziale e il problema sarà risolto. Non sta ovviamente soltanto al comune risolverlo, ma il comune deve fare di tutto perché il cittadino possa avere una qualità della vita sostenibile, quindi l'acqua è l'assoluta priorità. Quindi naturalmente i cittadini potranno venire nelle fasce orarie indicate muniti di taniche e bottiglie e potranno prelevare il fabbisogno diciamo quotidiano. Ovviamente il servizio sarà aperto fino a che questa emergenza non sarà risolta. Braccio di ferro tra antitrust e balneatori sulla carenza di spiagge libere che poi è la base della direttiva Bolkestein attraverso la quale l'Europa impone al governo italiano di indire nuove gare per l'assegnazione delle concessioni balneari. Intanto gli operatori del settore hanno annunciato la sospensione dello sciopero degli ombrelloni. L'antitrust interviene con nettezza nella querella riguardante l'applicazione della direttiva Bolkestein che pone all'Italia di rimettere a gara le concessioni balneari. L'autorità garante della concorrenza e del mercato ha infatti inviato una missiva a Lanci e alla conferenza Stato-Regioni spiegando di condividere le conclusioni della giustizia amministrativa italiana e della Commissione europea in merito alla notevole scarsità, se non inesistenza, di aree demaniali a disposizione di nuovi operatori. In altre parole, per l'antitrust, in Italia ci sono poche spiagge libere ed è proprio su tale carenza che si fonda la necessità delle nuove gare. L'autorità ha quindi esorta il governo ad indirle celermente in linea con quanto prescritto dall'Europa. Le associazioni dei balneatori però non ci stanno. Non è che uno vuole dire all'antitrust che si sbaglia, forse si sbaglia veramente, ma possiamo una volta per tutte mettere le carte sui tavoli e far vedere l'Abruzzo quanta spiaggia effettivamente è occupata dagli imprenditori balneari, su 139 km, sono stancato di ripetere sempre questa frase, 139 km di costa, 33 km occupati dagli stabilimenti balneari, 20 km sono occupati dalle riserve naturali, vedi il parco del Cerrano, Punta Derce, Biotopo eccetera, i restanti 60 km di spiaggia sono libere, sono pronte per essere affidati a giovani, imprenditori, cooperativi, anziani, cooperativi sociali, tutti quelli che ci vogliono venire. Ma perché non mettiamo a gara questi pezzi di arenili? Mi spiace che un'istituzione così importante come l'antitrust affermi queste cose, però sapete perché tutto questo avviene, tutta questa confusione avviene, perché non c'è il governo che si alza in piedi e dice le cose con chiarezza e non prende in giro più nessuno. Parlamentari che continuano a prendere in giro, noi imprenditori per favore scansatevi. Padovano fa sapere ad ogni modo che sembra aprirsi qualche spiraglio nei negoziati con il governo, tanto che è stato temporaneamente sospeso lo sciopero degli ombrelloni che dopo l'astenzione del 9 agosto avrebbe dovuto ripetersi anche nelle giornate del 19 e 29 agosto. Sospendiamo lo sciopero del 19 e 29 di agosto perché abbiamo avuto una interlocuzione con il governo e il governo parrebbe che appena dopo la settimana di ferragosti sarebbe un incontro tecnico per studiare una norma che consente con calma di effettuare una vera riforma sulle concessioni dei maniari. Siamo alla giornata di mercoledì 14 agosto, in cassa un nuovo via libera, questa volta ad Altar di Pescara, la filovia destinata a collegare Pescara e Montesilvano finita al centro di numerosi ricorsi. Ivano Angiolelli del Comitato Strada Parco critica però la decisione della giustizia amministrativa e resta convinto che non ci siano le condizioni perché l'opera vada in porto. Con quattro sentenze fotocopia il Tar di Pescara respinge il ricorso di alcuni cittadini di Montesilvano e di fatto vieta l'accesso alla strada parco cancellando i passi carrabili di cui usufruivano i residenti. Un nuovo ed ulteriore disco verde alla realizzazione della filovia che dovrà collegare Pescara e Montesilvano. Ivano Angiolelli, storico rappresentante del Comitato Strada Parco, bolla però come incomprensibili le ragioni alla base della decisione dei giudici. Si ribadisce la prevalenza dell'interesse pubblico però io aggiungerei senza trascurare i diritti sacrosanti dei residenti. Residenti che hanno un accesso carrabile da lunghi anni sulla strada parco, disciplinato anche da segnaletica orizzontale e verticale, quindi quello a riprova del fatto che il diritto è sussistente. Il Tar dice in modo sibillino che quel diritto non esiste ma noi ribadiamo che invece quel diritto esiste ed è comprovato dalla presenza di scivoli che sono stati rinnovati in occasione dell'allargamento dei marciapiedi. Il Tar di Pescara fa una distinzione tra passo carrabile e accesso carrabile, in sostanza limitandosi a dire che i residenti abbiano un diritto di accesso ma non di passo carrabile. Ora noi siamo andati a vedere perché siamo abituati ad approfondire le questioni. il passo carrabile è l'accesso consentito senza la presenza di un marciapiede. L'accesso carrabile è qualcosa in più perché c'è un marciapiede che ha bisogno della realizzazione di uno scivolo, cosa che è stata fatta a Montesilvano. Per cui noi non capiamo come si possa sostenere che il passo carrabile era funzionale soltanto l'applicazione del divieto di sosta, peraltro su una strada dove è vietata la circolazione veicolare. Angiolelli, nonostante i ripetuti via libera alla realizzazione dell'opera da parte della giustizia amministrativa, continua comunque a dirsi convinto che alla fine la filovia non si farà. Noi siamo certi del fatto che ci debba essere una marcia indietro perché questo sistema non ha i requisiti per poter superare i collaudi di Asfisa. Questo è un tracciato che è privo di presidi di sicurezza, nel senso che come vediamo qui ci sono degli attraversamenti pedonali non disciplinati da semaforo dedicato ai pedoni, per cui si tratterebbe di un sistema per stessa ammissione di Tua Spa che non ha più i requisiti, ha smarrito nel tempo i requisiti del trasporto rapido di massa. Si tratterebbe di un vettore costretto a viaggiare a velocità molto ridotta e quindi non avrebbe alcuna trattiva sull'utenza in termini di tempi di percorrenza e quindi di velocità commerciale. Un incontro a Roma con il ministro Matteo Piantedosi per tracciare il futuro della caserma dei vigili del fuoco di Pescara. Le parti si ritroveranno a settembre per definire i dettagli dell'accordo. In un incontro istituzionale svoltosi a Roma, il sindaco di Pescara Carlo Masci, il rettore dell'Università Gabriele D'Annunzio Liborio Stupia, il prorettore Tonio Di Battista e altri rappresentanti locali hanno discusso con il ministro dell'interno Matteo Piantedosi e il capo dipartimento dei vigili del fuoco, il prefetto Renato Franceschelli, il futuro dello sviluppo dell'Ateneo e della caserma dei vigili del fuoco situata in Viale Pindaro a Pescara. L'incontro si è svolto in uno spirito di totale collaborazione e ha portato a un'intesa preliminare sulla gestione futura dell'immobile che attualmente ospita la caserma dei vigili del fuoco di proprietà della provincia di Pescara. È stato deciso che il demanio acquisirà l'immobile e procederà immediatamente alla sua messa in sicurezza con interventi specifici per garantire la staticità e la resistenza antisismica della struttura. Parallelamente, in un secondo momento, l'Università d'Annunzio si è impegnata, una volta completati i lavori di adeguamento, ad ampliare i propri spazi didattici e amministrativi. Questo passaggio è fondamentale per sostenere l'espansione dell'Ateneo che sta vivendo una fase di crescita e necessita di nuove aule e laboratori. Contestualmente il Comune di Pescara ha individuato un'area alternativa per la nuova caserma situata non distante dall'attuale sede di Via Lepindaro. Questo garantirà ai vigili del fuoco una struttura moderna e sicura in linea con le più recenti normative e necessità operative. È una pianificazione che il Comune di Pescara ha fatto già da diversi anni e che vuole vedere concretizzata proprio con l'allargamento dell'università, la creazione anche di un campus, senza trascurare il fatto che i vigili del fuoco svolgono un lavoro fondamentale per il nostro territorio e quindi devono avere la loro risposta subito con questa caserma e in prospettiva con una nuova caserma. Il primo cittadino di Pescara risponde così ai sindacati di categoria che avevano avanzato specifica richiesta alla politica affinché la nuova caserma nasca nel sito della sede storica. Poi capisco anche le preoccupazioni dei sindacati però nel momento in cui avranno la garanzia che si mette in sicurezza l'immobile, che potranno rimanere lì fino a quando non ci sarà una caserma, credo che le situazioni si appianeranno. Il percorso tracciato durante l'incontro a Roma prevede un secondo tavolo di confronto a settembre per definire i dettagli dell'accordo e garantire che tutte le parti coinvolte siano soddisfatte dalle soluzioni preposte. Siamo alla giornata di venerdì 16 agosto, partito appunto venerdì post-ferragosto il fermo biologico e gli armatori dicono la loro sul calendario ma avanzano anche osservazioni sulle decisioni del Ministero che dovrebbe invece guardare con maggiore attenzione alle particolarità territoriali del comparto. L'estate 2024 verrà ricordata per la siccità, la crisi idrica, per il turismo in calo con permanenze improntate al mordi e fuggi ma anche per la stagione nera della pesca. La mucillagina ha contribuito senz'altro ma per un certo verso è un capitolo che gli armatori si buttano dietro le spalle. Ora ci mancava il fermo da oggi 16 agosto fino al prossimo 29 settembre. Dal punto di vista commerciale abbiamo enormi danni perché in questo periodo il mercato richiede parecchio pesce e i prezzi erano raddoppiati, i prezzi del pesce erano raddoppiati all'ingrosso e quindi per noi era un beneficio pescare in questi giorni. Dal punto di vista scientifico il fermo biologico si fa per limitare lo sforzo di pesca e assicurare la sopravvivenza degli stocchi ittici ma dal punto di vista biologico questa è la modalità di attuazione del fermo, queste date non sono le migliori possibili e ci sono alternative anche migliori e quindi non vediamo perché invece di fermarci il 14 agosto non ci hanno magari fatto iniziare il fermo a fine agosto e magari darci la possibilità di fornire i ristoranti in questo periodo di richiesta maggiore del pesce. Senza contare che il ministero secondo gli armatori fa scelte troppo generiche. È frutto di un compromesso che cerca di accontentare tante richieste, tante istanze di diversi settori di mare, abbiamo l'alto adriatico che ha delle esigenze, il medio adriatico ha altre esigenze e il sud adriatico ha altre esigenze. Quindi i mercati locali interni hanno altre esigenze che succede che solo a livello regionale magari di macro regioni tipo medio adriatico si riesce veramente a gestire il fermo pesca in una modalità tale da ottenere maggiori risultati dal punto di vista biologico e minori danni dal punto di vista economico per le imprese. Da mettere in bilancio anche altri due fattori. Si favorisce il mercato dei sorgiolati, i dipendenti del settore non godono di grandi ammortizzatori sociali. I dipendenti che vengono messi per 45 giorni in cassa integrazione straordinaria, che come sapete non è la cassa integrazione che ti arriva il mese dopo. Questa è una cassa integrazione, è un indennizzo che arriva un anno dopo. Quindi famiglie che rimangono senza reddito per 45 giorni. E a poco più di un anno dalle elezioni comunali c'è già fermento a Chieti. Escono allo scoperto le liste Chietiviva e Diorio Sindaco che invocano un cambio di rotta radicale bocciando le amministrazioni Di Primio e Ferrara. Le ultime amministrazioni comunali a Chieti a guida Umberto Di Primio del centrodestra e Diego Ferrara e Paolo De Cesare del centrosinistra hanno fallito e penalizzato la città. Serve un cambio di rotta radicale senza padrini politici. Così in una nota le liste civiche Chietiviva e Bruno Di Iorio Sindaco, che si definiscono pronte a ripartire, affinano le armi in vista delle elezioni comunali che si terranno tra poco più di un anno. L'ultima tornata elettorale a Chieti ha visto la proposta civica con Bruno Di Iorio Sindaco superare il 20% dei consensi e mancare il ballottaggio per poche decine di voti, hanno dichiarato Alessandro Marzoli, promotore della lista civica Chietiviva, insieme al già candidato sindaco e consigliere comunale Bruno Di Iorio della lista di Iorio Sindaco e Giampiero Riccardo, consigliere e capogruppo di Chietiviva. A distanza di quattro anni siamo sempre più convinti della necessità di cambiamento, tasse al massimo, servizi al minimo. E questa è la fotografia che le due liste fanno circa il lavoro dell'attuale Giunta Ferrara, contrassegnato da poco coraggio e dalla tutela delle posizioni personali. Quando nel 2020 abbiamo proposto una figura fuori degli schemi destra-sinistra, continuano Marzoli e Riccardo, in riferimento al candidato sindaco Di Iorio, avevamo il desiderio di alzare l'asticella, candidando profili nuovi e stranei a logiche affaristiche con lo scopo di portare nuove energie alla comunità teatina per l'amore incondizionato della città. Secondo Di Iorio, Riccardo e Marzoli, il risultato delle ultime regionali dice che Chieti non conta nulla sulla cartina politica abruzzese, mentre i continui cambi di casacca privano di rappresentanza l'elettorato di centro. Le liste Chietiviva e Bruno Di Iorio sindaco intendono ripartire da un programma elettorale messo in campo per una città più efficiente, pulita e accogliente, che dia modo alle famiglie e ai residenti di essere contenti di vivere a Chieti e si dicono pronte a valutare con attenzione le proposte che arriveranno dai due schieramenti nella convinzione che solo la discontinuità rispetto a quanto fatto dalle ultime amministrazioni comunali porterà ad un confronto. In conclusione, le due liste ribadiscono di aver avuto già il coraggio di essere alternative e che solo senza paura, senza padroni e padrini politici e alzando la qualità delle competenze si potrà cambiare il futuro di Chieti e della sua comunità. Siamo alla giornata di sabato 18. La Regione Abruzzo ha chiesto al Consiglio dei Ministri lo stato di emergenza per la crisi idrica. Il Presidente Marsiglio ha legato alla richiesta una relazione del dirigente regionale della protezione civile. La Regione Abruzzo ha inoltrato al Governo la richiesta dello stato di emergenza dal 1 luglio 2024. L'istanza è stata sottoscritta ieri dal Presidente della Regione Marco Marsiglio e inviata al Consiglio dei Ministri allegando anche una relazione del dirigente della protezione civile regionale. Il territorio dell'Abruzzo, si legge, è interessato da un lungo periodo di siccità causato sia dall'eccezionale scarsità di precipitazioni delle ultime stagioni autunnali e invernali, sia dalle temperature costantemente più alte della media che hanno determinato tra l'altro una evidente riduzione dei deflussi idrici superficiali e dunque una esigua disponibilità di acqua negli invasi nelle falde idriche, ha scritto Marsiglio. Situazione aggravata dai rilevanti afflussi turistici della stagione estiva, soprattutto nella fascia costiera, unitamente ai fabbisogni stagionali dei settori agricolo e zootecnico. La situazione ha assunto elevati livelli di criticità, soprattutto in provincia di Chieti, dove diversi comuni da giorni sono senza alcun approvvigionamento idrico. Questa regione, ha concluso il Presidente Marsiglio, di concerto con le prefetture territorialmente competenti, si è attivata nell'immediato per far fronte al grave scenario emergenziale in atto. Intanto un sollievo potrebbe arrivare nelle prossime ore, con il paventato cambio di scenario sul fronte meteo, con un deciso calo delle temperature, che d'altro canto potrebbe essere accompagnato da alcuni eventi particolarmente insidiosi, quali forti temporali e grandinate. Ed è scontro per la recente decisione della Giunta Marsiglio di autorizzare l'abbattimento selettivo di circa 500 esemplari di Cervo. Dopo l'opposizione del WWF è arrivato il seccono anche da parte del coordinatore regionale di Forza Italia, Nazario Pagano. Dal 14 ottobre anche in Abruzzo sarà aperta la caccia al Cervo, con la possibilità di abbattere circa 500 esemplari. Il prelievo selettivo che sarà effettuato esclusivamente da cacciatori abilitati avverrà in due aree della regione, entrambe nell'Aquilano, definite comprensorio 1 e 2, sia all'interno che all'esterno del Parco Nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise. Tra le motivazioni, secondo Regione Abruzzo, che ha autorizzato la caccia selettiva, ci sarebbero i gravi danni causati all'agricoltura che nel periodo 2019-2023 sono stati pari a 895 mila euro. A questi si aggiunge anche l'aumento degli incidenti stradali causati da Cervi 806. La recente decisione della Giunta Marsiglio ha sollevato un acceso dibattito. Il WWF, per voce della delegata regionale Filomena Ricci, parla di scelta scelerata e propone delle contromisure per salvaguardare un esemplare che, come l'Orso, ormai è diventato un emblema dell'Abruzzo. Si possono implementare delle recinzioni, i dissuasori, olfattivi, acustici, potenziare i sottopassi per l'attraversamento degli animali, costruire degli ecodotti. Anche sulle strade si possono apporre altre forme di dissuasori. Manca in Abruzzo una visione sulla prevenzione che miri ad ottenere l'abbassamento del rischio rispetto a queste tematiche, che sono sicuramente molto serie e da tenere in considerazione. Ma, ripeto, non riteniamo che l'uso dei fucili possa essere la soluzione di queste problematiche. Critiche non solo dalle opposizioni, ma anche dalla stessa maggioranza di governo. Ad esprimere la propria contrarietà il deputato di Forza Italia, Nazario Pagano. Il coordinatore degli Azzurri in Abruzzo annuncia di voler approfondire la cosa al fine di valutare ogni possibile alternativa a un abbattimento così massiccio di cervi in Abruzzo. La pagina dello sport, il calcio di Serie C, il Gubbio tratta col Pescara per avere Cristian Tommasini e Simone Franchini. La società Bianca Azzurra smentisce poi di aver ricevuto un'offerta dal Trapani per Merola. Giornata intensa sul fronte mercato, quella di ieri per il Pescara. La dirigenza Bianca Azzurra ha incontrato il Gubbio. Sul piatto ci sono le possibili cessioni di Cristian Tommasini e Simone Franchini. Tommasini era stato già al centro della trattativa in uscita per Crotone, che però alla fine non si è concretizzata. In terra calabrese è finito Colai. Il Gubbio cerca un centravanti e il neotecnico Roberto Taurino sarebbe contento di ritrovare quel Tommasini che con lui a Monopoli nella seconda parte della scorsa stagione ha fatto benissimo, avendo una parte importante nella rimonta salvezza dei pugliesi, fino a segnare il gol decisivo nei play-out. La società Umbra è anche a caccia di un centrocampista di gamba, ecco perché ora mira a Simone Franchini, che lo scorso anno ha avuto delle difficoltà in Bianca Azzurro e che in terra ombra cercherebbe un rilancio. E gli interessi del Gubbio si intrecciano ancora di più con quelli del Pescara, perché gli Umbri avevano messo nel mirino Lorenzo Lonardi, che è in uscita dal Sud Tirol. In questo modo il Pescara potrebbe colmare la partenza dell'ex Sassuolo proprio con Lonardi, anche se su quest'ultimo resta la concorrenza di altri club come Torres e Padova. Anche l'uscita di Tommasini libera il posto per un nuovo centravanti, che potrebbe essere anche un nome nuovo rispetto ai tanti circolati negli ultimi tempi, sempre considerando che valutazioni sono in corso sull'attaccante in prova J. Enem. Altre priorità è l'arrivo di almeno un terzo centrale di esperienza. Il monito arriva dal post Pineto, con l'acciacco in cui è in corso Pellacani. Al momento Staver e i primavera Giannini e Preta sono le alternative. Nelle ultime ore si registra un'accelerazione per Erasmo Moulet dell'Avellino, ma restano sempre in ballo anche Alessandro Tuia e Deglio Capradossi. Sempre fermento poi intorno al nome di Davide Merola. Sul bomber biancazzurro in mattinata, rilanciata da Alfredo Pedullà, è arrivata la voce di una imminente chiusura dell'accordo con l'ambizioso Trapani, voce smentita dal Pescara che non ha ricevuto offerte dal club Granata. La stessa dirigenza biancazzurra aveva anche messo il freno alla notizia secondo cui il Catania fosse in chiusura per Merola a cavallo del giorno di Ferragosto. Termina qui questa edizione del TG6 la settimana. Abbiamo ripercorso insieme a voi le notizie della settimana per la nostra regione. La parte mia l'augurio a tutti voi di una buona domenica. TG6 TG6 TG7 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 TG7